Consueto appuntamento delle previsioni del tempo sull'Italia in questi giorni che precedono le festività pasquali. Condizioni di tempo per lo più stabile sulla nostra penisola, fatta qualche eccezione sulle regioni di nord-est prima del peggioramento atteso del fine settimana e nella giornata di Pasqua, ma di questo ne parliamo poi in maniera più approfondita nei prossimi video. Intanto vediamo la previsione del tempo nella giornata di venerdì 14 aprile. Il flusso in transito dall'oceano atlantico fin sul bacino del Mediterraneo centrale con associate masse di aree più fredde in quota determina della locale stabilità al mattino sul Veneto con piogge e locali rovesci, addensamenti nuvolosi anche lungo le coste di Ligure e Toscana ma senza fenomeni associati, soleggiato sul resto della penisola. Nel corso del pomeriggio condizioni per lo più invariate con bel tempo e sole prevalente da nord a sud da segnalare soltanto qualche nota di stabilità sulla Carnia, sulle Dolometi bellunesi, sull'Alto Adige, lungo la dorsale appenninica lucana e sulla Sila con associate piogge e locali temporali. In serata poi insistono le piogge anche sulle Alpi orientali altrove tempo più stabile con cieli sereni specie al centro-sud Italia, ultimi fenomeni notata poi sulle Friuli. Flusso nord-atlantico sull'Italia con associate masse di aree più fresche in quota di conseguenza calano le temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi, calo più sensibili sugli settori orientali della penisola. Anche per oggi abbiamo concluso con le previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano. Tutti i dettagli e nuovi aggiornamenti sul sito tramite la nuova app meteo. Un saluto dal centro meteo italiano e buone feste!